ciao a tutti ragazzi nuovo video ASMR soft spoken sfogliamo insieme il volantino dell'idol dal 17 al 23 di gennaio zucchine arance tarocco cavolfiore scusate se ho messo i punti interrogativi perché non so se voglio andare a comprarli le cose che ho fatto il segno vediamo se riesco andare a comprarlo se vado magari al penny invece che al lidol comunque rilassatevi anche senza microfono spero che vi piaccia questo video pesce carne macellaria orata super offerte giovedì da giovedì banco frigo fagiolini yogurt ital pizza offerte lunedì broccoli cordon bleu simil kinder fetta al latte l'arco bar questi qua sono buoni arancia rossa il succo di waffle cioco duo coca cola i cappelletti due cotolette di pollo sugo alla salsiccia molto buono 99 centesimi brodo star nescafe pesce vino grillo di sicilia fish burger super offerte treccine zuccherate tipo le lastrine le barrette ricche di frutta secca nuts bar 1 euro e 11 75 novellini gli strudelini gli amaretti tante cose con la tessera lido il plus ci sono queste cose qui ok il ginger che sono anni che non bevo più cipolle rossa limoni e poi dal lunedì 17 ci sono queste cose bio banana chips specialità spalmabile di mirtilli l'olio di cocco kiff kefir burro di arachidi che non mi piace wood owl pizza goat cheese con formaggio di capra coconut flower farina di cocco biologica tutti i prodotti biologici vergonzola biscotti pan bauletto detersivo win is cielo questi qua sono ottimi li ho già comprati win is natural 3 euro e 49 quello che ho pagato io rinfrescanti mi sembra che ce l'ho anch'io questo qua pulizia profonda clean detergente solido 5 euro e 79 6 99 anti ruga la lavagna tofu una terra naturale seitan burger vegetali vorrei provare qualcosa di queste cose qui ma non lo so anche perché se prendi solo due tre cose già spendi 30 euro come niente quindi non lo so costoso lido prodotti per la casa sacchetti profumati sapone liquido gel detergente il fairy 4 euro 99 quelle che avevo io sono original verdi sacchi profumati di odorante per ambienti profumatore per ambiente per pulire la casa spiancante per le fughe schiuma detergente per forno e griglie schiuma attiva power fresh tavolette panno pavimenti uno solo questo qui cura lavatrice schiuma detergente per bagno e tante cose da giovedì 20 gennaio e poi ci sono i mobiletti scaffale cinque ripiani e la mini piastra per capelli alessandra ambrosio le lampadine cose da lavoro ok le piante pollice verde e dal 11 17 le calze e la roba sportiva ok 10 euro 7 euro reggisimo sportivo 7 99 giochi per bambini da giovedì in legno che bello cassettina tavolino e scatole la macchina da cucina cavo per ricarica spazzola vapore piacerebbe provarla cestini se siete tifosi di calcio andate al litro che giovedì ci sono queste lenzuola plate copre piumino cuscino per la cervicale 10 euro ok milan inter juve rete ad hoc per letto singolo bollitore elettrico pentone padelle coltelli con salvalama così non vi tagliate e via super weekend da dal 21 al 23 pistacchi l'aranciata 0 99 gli hamburger di scottone alle banane provolone e presaula punta d'anca a presto ragazzi spero che vi sia piaciuto questo video breve e buon relax a presto e buon relax a presto Andate.